Grazie ragazzi, grazie, grazie di cuore! Non fatemi commuovere, sono veramente emozionato, sono contento di essere qua! Eccoli i candidati della lista Forza Imperia Lanteri Sindaco! Grazie agli amici di Forza Imperia, questo non è un simbolo patacca, questa qui è la lista di Forza Italia, la vedete con le bandiere? Sono tanti cari amici che ritrovo, mi fa piacere, grazie di essere qui con noi questa sera, grazie, grazie, sono veramente contento! Antonello! Grazie a te Luca, grazie! Grazie, però non tanto anzi, non è Luca, stai insomma! No, allora intanto io devo ringraziare tutti, lo vorrei fare uno per uno, non si può fare, però veramente è un onore, un piacere essere qua e sono anche, devo dire, commosso perché vedo un entusiasmo straordinario. Il primo ringraziamento che voglio fare è a Luca Lanteri, noi abbiamo saputo in questa fase fare un ragionamento di squadra, nel vero senso della parola, abbiamo saputo ragionare, abbiamo trovato il candidato giusto in questo momento storico giusto, in questo momento particolare. Noi non abbiamo fatto come altri che si sono autoproposti, noi ci siamo presentati in squadra, abbiamo deciso, abbiamo tutti fatti un passo di lato, quando abbiamo visto che la disponibilità di Luca Lanteri era totale e abbiamo capito che Luca, e vorrei dirtelo veramente di cuore, sei la persona giusta in questo momento, sei un grande amministratore, l'hai dimostrato e sei un politico veramente che sa fare politica, sa ascoltare, soprattutto e sta stare vicino alla gente. Queste non sono parole che faccio così per circostanza, io e Luca ci conosciamo da una vita, ci stimiamo, conosco la sua famiglia, una vera famiglia, il popolo della famiglia, io penso che sia con noi perché la famiglia qua è rappresentata da persone che ci credono veramente e credo che i valori a cui ci ispiriamo noi sono valori autentici e lo dimostriamo tutti i giorni. Io so che tu sei una persona seria, sensibile, sei un papà di quattro bambini, come diceva Antonello, tu rappresenti la famiglia vera, non la famiglia ipocrita. Quindi io so che dentro di te c'è innanzitutto la sensibilità per capire le istanze delle persone e dei nostri cittadini e hai anche la capacità, la capacità tecnica e la capacità politica di portare avanti una città. Quindi queste sono le mie istanze, non ho niente da chiedere per me, ma ho tanto da chiedere per i nostri cittadini. Grazie Luca. Abbiamo dovuto invertire l'ordine, fino a ieri pensavamo di far salire tutte le liste contemporaneamente sul palco Giovanni, abbiamo sbagliato tutto, poi ci siamo resi conto che il palco non reggeva. Allora questa mattina con Marco abbiamo detto facciamolo al Carlo Felice a Genova, era tutto pronto, c'era anche la disponibilità del Carlo Felice, ho sentito molti di voi, erano disposti a venire a Genova, però abbiamo detto cosa succederà poi se facciamo l'evento a Genova? Allora è un disastro, quindi abbiamo detto no, facciamolo qua anche se non riusciamo a metterlo tutti sul palco, così non potranno dire che siamo genovesi, dovranno dire questa volta che siamo imperiesi perché la presentazione la facciamo nella nostra città. Grazie Lorenza, grazie di cuore a tutti gli amici di Fratelli d'Italia. Grazie a tutti voi di essere qui, mi fa molto piacere, anche se ha comportato un po' di ritardo il fatto di essere bloccati là nella coda perché vuol dire che oltre a essere occupati tutti i posti in sala c'è anche tanta gente fuori che sta cercando di entrare, questo è un bellissimo segno. Mi fa molto piacere e la nostra lista, eccola qua, me la presento, è composta da persone del territorio, persone che lavorano. Ed eccoli i candidati della lista Progetto Lanteri, Sindaco Imperia. Grazie ragazzi, questa è una lista che ho confezionato usando un termine rubato al commercio, mi è stato chiesto di portare un apporto civico, un apporto di amici che si riconoscono nel progetto del centro-destra che stiamo portando avanti noi, quindi hanno ben chiara qual è la loro collocazione e qual è la loro risposta che bisogna dare ai bisogni della città. Amministrare vuol dire rapportarsi con la regione, vuol dire rapportarsi con lo Stato centrale, vuol dire rapportarsi con la comunità europea. Quindi anche chi porta, come stanno facendo tutti questi amici, un impegno civico lo porta certo di sapersi relazionare bene con la squadra alla quale fa riferimento. Grazie veramente di cuore, non so se qualcuna di voi mi vuole fare una battuta o chiedere qualcosa, Federica, niente, Alessia, nessuno, sono timide, non si osano. Allora magari passo un attimo il microfono a uno che è stato un record man di preferenze nelle ultime volte, Alessandro Servioli, dice qualcosa, grazie. Grazie Luca, grazie a tutti, buonasera a tutti, rappresento qua la lista civica progetto Imperia, alcuni di noi hanno esperienza amministrativa, altri sono alla prima avventura, comunque siamo tutti decisi e convinti a correre per Luca Lanteri perché siamo convintissimi che Luca sia la persona giusta per Imperia, per rilanciare questa città, per svilupparla al massimo e quindi Luca contiamo veramente su di te, noi ci crediamo, grazie. Grazie Alessandro, chi è che ha scelto questo fiore? Non mi piace per nulla, scusate ma non offendetevi, ma ve lo devo dire. I fiori che abbiamo qua invece sono di lunedì sera, li abbiamo recuperati, speriamo che non ci facciano causa, erano qua da lunedì sera e li abbiamo tenuti, anche se mezzi appassiti, risparmiamo sui fiori. Grazie ancora a tutti voi, amici miei. Ed eccoli i candidati della lista Lega Liguria Salvini. Grazie agli amici della Lega, grazie, siete tantissimi, bellissimi, complimenti. Sono due giorni che vediamo circolare per Imperia i bus con la pubblicità dove Salvini invita a votare per me, grazie quindi, grazie di cuore. Grazie a tutti voi, chi è che vuol dire una parola? Monica, vai, capolista. Grazie a tutti, la prima cosa che volevo dire è che sono abbastanza emozionata. A ogni chiamata la Lega è scesa sempre giù in piazza, io voglio ricordare i numerosi banchetti. I candidati della lista Vince Imperia, Lanteri, Sindaco. Bellissimi, bravi, grazie. Questa è una lista giovane, frizzante, è una lista che vorrà portare un contributo particolare in termini di innovazione, di dinamicità. Chi è che mi scambia una battuta? Vai Patrizia! Buonasera, bene. Dunque, allora, noi abbiamo studiato... Puoi guardarmi così che mi metto... Mi allontano? No, mi stai vicino ma non... Allora, noi abbiamo studiato il programma, ce lo siamo già studiato tutti. Qualcuno di voi ha anche lavorato al programma? Assolutamente. La parte che ci piace un sacco è quella green, perché noi siamo giovani e quindi pensiamo che l'ambiente sia fondamentale. Tanti di noi sono anche genitori, quindi per i nostri figli una città più verde, più attenta alle esigenze delle ambienti, è sicuramente qualcosa che ci sta molto a cuore. Poi, leggendo il programma, però, abbiamo visto una cosa interessante, conoscendo le tue attitudini così da agricoltore, no? Abbiamo visto che c'è il mercato del contadino. Ci chiedevamo se poi tu volevi anche, insomma, aderire a questa iniziativa di fare il mercato del contadino. Cosa ne pensi? Bello Patrizia, bellissimo, grazie. Mi piacerebbe, ma mi sa che mi avete condannato a fare altro che il contadino nei prossimi cinque anni, quindi... Ci auguriamo che tu non abbia tempo di fare il mercato del contadino. Assolutamente sì, purtroppo devo prendere questo impegno che sarò meno contadino e solo ed esclusivamente sindaco per il futuro. No, veramente, pensavamo, al di là delle battute, è stata bravissima Patrizia, grazie, pensavamo addirittura ad un olio oliva 365 giorni all'anno. Siete bellissimi, non solo Benedetta, ma anche tutti voi. La critica più pesante che ci è stata rivolta è quella sottoscritto ed alcuni amici di rappresentare il partito del cemento. A me ha fatto ridere la cosa, vuol dire che chi fa questa accusa è completamente fuori dal mondo, è completamente fuori dal tempo. Si è anche detto addirittura che ci sono chissà quali disegni sul piano regolatore e sulla spartizione di quelli che sono i business che deriveranno dal piano regolatore. Una cosa, il piano regolatore non esiste più dal 1997. Sono 21 anni che non esiste più il piano regolatore. Si chiama PUC, l'ha introdotto la legge numero 36 del 1997, giusto Marco? Mi sbaglio? E quindi certe cose mi fanno veramente sorridere. Un tempo si pensava di far diventare Imperia una città, una grande città che passasse da 40.000 addirittura a 60.000 abitanti. Oggi invece facciamo fatica a conservare i 40.000 abitanti, facciamo fatica a garantire un futuro ai nostri figli, facciamo fatica a garantire una vita decorosa a tutti i nostri concittadini. Quindi ci dobbiamo impegnare per questo, perché i 40.000 abitanti che oggi ci sono stiano bene e stiano meglio. Case ce ne sono fin troppe per gli abitanti che Imperia. Non preoccupatevi che il problema non è quello di costruire, ma se lo fosse io mi augurerai di vederne tante betoniere del cemento in futuro. Vuol dire che partiranno le opere pubbliche, vuol dire che verrà portato il cemento per fare le strade, per fare le infrastrutture, per fare le fogne, per rifare gli acquedotti, per fare delle scuole. Vuol dire che finalmente partiranno i cantieri di rigenerazione urbana, che con Marco ci auguriamo che partano, perché vogliamo che la città migliori. Non ci serve che la città si espanda, la città deve migliorare in modo tale di garantire una qualità di vita migliore. Deve garantire una qualità di vita migliore per i nostri giovani, per tutti, ma deve garantirla in particolar modo per gli anziani. Antonio è una persona seria, capace, è una persona eccezionale. Dal momento che si è messo a disposizione del nostro progetto è stato ingiuttamente criticato con uscite, non voglio usare un termine, forse un termine che non ho mai usato, vergognoso. Lo uso adesso perché è stato vergognoso accusare Antonio Parolini perché ha fatto benissimo l'amministratore unico di arte fino ad oggi con ottimi risultati. In passato ha fatto benissimo l'assessore in provincia, quindi è uno che non ha bisogno di presentazioni, è uno che ha già dimostrato sul campo di essere capace. Grazie Antonio, ti passo per pochi minuti il microfono se vuoi farci un saluto. Grazie Luca, grazie a te, grazie a tutti voi. Non ringrazierò solo la giunta regionale perché non si può se non ci criticano e ci dicono che non devono venire. Non le ringrazierò neanche per quello che hanno fatto venerdì scorso nella giunta imperia dove hanno dato tantissime risorse per questo territorio, quindi per questo non le ringraziamo assolutamente e facciamo finta che non ci siano neanche. Quindi stasera Giovanni a cena ci sediamo separati, distanti, perché se no poi mi accusano di essere troppo vicino. A parte gli scherzi, a me sembra che ci siano veramente tutti gli elementi per fare bene, sicuramente per vincere, questo lo diamo per scontato, ma mi sembra che ci siano anche gli elementi per governare bene. C'è un sindaco, un candidato sindaco che si è messo completamente a disposizione per la causa. Mi sembra che abbia lasciato il lavoro, mi sembra quasi che abbia lasciato la famiglia, ha lasciato l'agricoltura che è l'altro suo lavoro e cosa più importante, se non mi sbaglio, hai lasciato anche la paletta di calcio del lunedì sera che era fondamentale nella tua vita, ha lasciato anche questa, forse è meglio perché magari non era più tanto in forma. Detto questa, le battute, però veramente si è messo a disposizione e questo è fondamentale. C'è una squadra di candidati meravigliosi, l'abbiamo vista questa sera, 160 persone, ci hanno messo tutti la faccia, le avete viste e li potrete giudicare. C'è un programma, un bel programma, che è consultabile da tutti, ma soprattutto mi sembra che questa sera ci sia tutta Imperia qua. C'è veramente rappresentata tutta la città di Imperia perché nella situazione in cui siamo oggi né i consiglieri comunali né una bella giunta come quella che sarà, a parte il sottoscritto, ma veramente non si fa niente, la città ha bisogno di tutti. Questa sera qua sono rappresentate tutte le categorie, c'è della bellissima gente e questo veramente ci riempie, ma non di orgoglio, ma soprattutto ci riempie di fiducia per il futuro perché il futuro non sarà facile, ma noi ci lavoreremo sempre con impegno. Grazie a tutti, in bocca al lupo a tutti, fate una bella campagna elettorale, sempre con sorriso perché il sorriso porta positività, non criticando mai nessuno, ma veramente non per finta, e soprattutto andate a spiegare a tutti qual è la nostra idea per rilanciare questa città e ascoltando tutti i cittadini. In bocca al lupo a tutti, grazie a tutti, buona serata. Grazie Antonio, grazie, bravo Antonio, grazie, grazie. Cari amici, concludiamo questa serata lasciando poi spazio agli ospiti, vi rivolgo un ultimo appello, ci aspettano tre settimane intensissime, dovete girare il centro e la periferia, dovete essere in Piazza Dante come nel più lontano borgo della città d'Imperia. Vi chiedo un impegno veramente forte perché serve, perché solo così possiamo arrivare dappertutto, quindi dovete entrare in ogni casa e in ogni negozio, dovete essere presenti con me ma dovete essere anche presenti senza di me. Vedete che se vi impegnate fino in fondo ce la faremo, io ne sono certo, mettetecela tutta, forza ragazzi, forza Imperia e vinceremo certamente. Grazie. Senatore Bruzzone, a te la parola. Grazie. Noi facciamo il turismo elettorale, io sto girando e anche altri colleghi per altre iniziative come queste, per la presentazione delle liste, la presentazione dei programmi, non soltanto in Liguria, anche fuori dalla Liguria. Non è turismo elettorale, vuol dire essere vicini al territorio, rappresentare il territorio, cercare di capire quelle che sono le esigenze e mettersi a disposizione del territorio. Se uno non fa questo tipo di turismo che non è turismo, sarebbe stato chiuso dentro al palazzo, ma non abbiamo mai visto, soprattutto parlo per noi della Lega, questo modo di fare politica, non ci ha mai appartenuto. Allora, dico, l'entusiasmo però che traspare, che si capisce qui questa sera, io non l'ho visto da nessun'altra parte, né in Liguria né in altre regioni. E questo ha un significato. Cari amici, Giovanni Totti, un grande applauso! Guardate che non era scontata questa serata perché hanno provato a dividerci in tutti i modi possibili. Hanno provato a dividerci, hanno provato a dividere il centro-destra, hanno provato a dividere i singoli partiti in questo territorio. E le persone che sono qua con me sul palco, appunto Alessandro, che oggi fa il nuovo presidente del Consiglio regionale, Marco, hanno fratelli d'Italia che ha pagato un prezzo, lo ricordava prima il sindaco Luca, hanno fatto uno sforzo per stare tutti insieme, ci hanno rimesso tutti quanti qualcosa, alcuni in termini di affetti, alcuni in termini di militanza politica, alcuni dei compagni, ma hanno fatto questo sforzo nella convinzione che lo slogan di questa campagna è lo slogan di questa avventura politica dall'inizio, la forza di una squadra a cui tutti quanti devono alla fine votarsi perché è quello che ci ha fatto vincere, è quello che ci fa governare bene le altre città di questa regione, è quello che ci tiene tutti insieme, è quello che è stato alla base di questa avventura che altrimenti non sarebbe neanche partito, la capacità di trovare sintonia politica certo, la capacità di mettere insieme delle dirigenze di partito, sicuramente sì, dei programmi politici che dicano dove vogliamo andare, cosa non vogliamo nelle vite dei cittadini di questa regione anche, ma soprattutto è stato un gruppo di persone che si sono guardate negli occhi e hanno detto un futuro migliore è possibile, un futuro migliore per la Liguria è possibile, per le città che abbiamo vinto, Genova, Spezia, Savona è possibile, io oggi dico che è possibile anche un futuro migliore per Imperia. Lo dico perché oggi è l'inizio di un cammino, oggi è un po' come il calcio d'inizio, io mi diverto con i palloncini e prenderli a calcio, oggi è il calcio d'inizio della partita che ci porterà alle elezioni. Siamo tutti imperiesi e per Imperia dobbiamo combattere questa battaglia che è la battaglia vera per imporre un sindaco bravo in cui crediamo, ma soprattutto per imporre un'idea della politica che è la politica interesse di tutti e non la politica interesse di qualcuno. in bocca al lupo e grazie!